Ciao a tutti dal Saludatore, eccomi qui con un bravissimo attore, vediamo tutti i tuoi fans. Grazie, Vincenzo Bocciarelli, social network, facebook, instagram, ma soprattutto sul canale 21, ogni sera in diretta dalla festa del cinema di Roma, live in Roma per gli amanti del cinema, ma non solo, per gli amanti delle anteprime, grandi incontri, stasera c'è Mary Strip, stiamo già tutti qui in fermentazione, in fibrillazione, live in Roma, grazie. In Roma, il commentatore, il salutatore, commentatore, conduatore, vedi? Ecco, conduatori, direttamente dalla festa del cinema, ciao, Roma, 2016, undicesima edizione. Grazie Vincenzo, ciao.